e bella a tutti ragazzi sono il gilberga e sono qui oggi in un nuovo video assurdo ragazzi perchè oggi voglio dirvi 5 consigli che io stesso ho utilizzato per migliorare e utilizzare mouse e tastiera su ps4 precisamente su fortnite prima di iniziare però voglio dirvi che se non sapete come si fa per giocare vi lascio il link in alto a sinistra penso o destra non ricordo mai per il link del video che vi mostra come giocare allora ragazzi prima di iniziare voglio chiedervi se potete lasciare almeno 50 likes e ragazzi seconda cosa voglio sapere qual è il vostro record di kill dalla distanza ad esempio a me pare che il mio sia di 258 metri una roba del genere quindi non sono sicuro ma mi pare una roba del genere allora ragazzi partiamo con i consigli il primo che posso darvi è ragazzi non fate i figli di papà ma prima di iniziare a comprare mouse e tastiera fighi, meccanici, diciamo una tastiera meccanica che costa tanto prendete roba che costi poco io vi lascio il set che ho comprato io che era mi pare un tappetino da mouse xl poi mouse da gaming e tastiera da gaming in tutto ho pagato mi pare in tutto 50 euro quindi è pochissimo ragazzi per tre cose ma questo perché? perché potrebbe capitarvi che la roba cioè giocare con mouse e tastiera non vi piaccia quindi non state lì a spendere tanto per magari poi smettere di giocare quindi vi consiglio di comprare questa roba qua poi se vi piace e siete appassionati di roba decine e comprate roba che costa di più ma io stesso ho comprato roba che costa meno perché non hai capi soldi da spendere e poi continuando a giocare probabilmente migliorerò le mie cose però prima voglio vedere se proprio mi piace adesso mi sta piacendo veramente tanto e mi sto trovando veramente bene quindi ragazzi poi comprerò qualcosa di migliore ma per iniziare vi consiglio di comprare roba che non costi tanto anche perché non voglio farvi buttare via i soldi io mi sto segnando tutti i consigli qua sulla mia agendina il secondo consiglio che posso darvi è mostrarvi le mie statistiche allora cioè le mie impostazioni scusate io gioco con accessibilità mouse di 0,07 anche perché mi sembra che non fatevi ingannare ma mi pare che come impostazione predefinita io non ci capivo nulla c'era 0,0 scusate 0,5 tipo una roba del genere mi pare non so sicuro ma mi pare come predefinito ci sia una roba del genere raga assolutamente sbagliato la sensibilità su mouse è bassissima dovete mettere tipo mi pare debba variare tipo dai 0,04 a 0,10 massimo cioè nel senso o siete proprio dei pro che ho gente abituata a veramente usare il mouse se no raga iniziatelo così e poi magari ve lo aggiustate io mi pare giocassi 0,07 non so sicuro ma mi pare di sì sensibilità ADS mouse cioè rallenta oddio è la 0,65 ovvero rallenta quando hai sotto mila dei bersagli io ho utilizzato 0,65 ma perché ho utilizzato 0,65 semplicemente perché ho visto un video di Power Power 92 Giorgio Power non so come lo conosciate comunque lui che è un pro e allora ho preso spunto da lui io prima mi pare avessi tipo qua 0,65 e qua 0,75 una roba del genere e mi trovavo benissimo poi ho provato questi 7G qua 0,65 0,80 qua e mi trovo veramente veramente bene non so poi penso siano soggettivi però io mi trovo bene con questi quindi quello che posso dirvi è provate questi e se no provate aggiustatevi aggiustate voi tipo diminuite qua o aumentate qua o diminuite qua e aumentate qua è una cosa abbastanza soggettiva io la cosa che su cui insisto è non abbiate la sensibilità tanto alta perché se no è impossibile giocare fidatevi di me mettete mettetela non al t come terzo consiglio vi mostro i comandi ci tengo a precisare che i comandi sono molto molto soggettivi cercate di guardare più video possibili di gente che gioca spesso con mouse con mouse da sera per capire quali sono i tasti che possono essere utilizzati io il consiglio che posso darvi è comprate assolutamente dei mouse che abbiano i tastini laterali perché sono troppo troppo utili e vi danno un vantaggio notevole rispetto a gente che gioca con con il joypad infatti io ho impostato come ho due tastini laterali qua sul mouse qua tac e tac in cui ho selezionato lo switch avanti e switch indietro delle armi e delle costruzioni e mi fa switchare veramente veramente veloce e quindi mi sto trovando veramente bene le cose che possono variare che posso consigliarvi sono qua vabbè vsd a sono i testi per muoversi quindi non è che c'è tanto da da pensare altra roba che posso cambiare ah qua voglio giusto cambiare e mettere f perché secondo me è molto meglio f perché per modificare le costruzioni io utilizzo g però g è troppo lontano da d che è quello con cui ti muovi e quindi tante volte mi perdo un attimo e devo cercare g invece se mi metto f che è di fianco alla d mi trovo veramente bene provatelo anche voi e fatemi sapere poi ovviamente qua potete switchare e mettere due cose cioè ad esempio qua puoi mettere che ne so ricarica puoi mettere r e che ne so p per esempio così con tutti e due i tasti fate la stessa cosa per dire e questa la customizzazione dei comandi su comandi stasera è molto più ampia quindi è molto più anche bello giocare un consiglio che posso darvi è se riuscite switchate con i numerini in alto perché è molto più semplice io purtroppo non avevo mai giocato con una z tastiera e quindi non lo faccio ancora però sto cercando di imparare perché è molto più veloce lo switch e quindi è molto molto più rapido e quindi riuscite a killar meglio in teoria poi basta non missare potete anche switchare le armi con la rotellina sopra il mouse però l'ho provato e non è non è buono lo switch perché è difficile da calibrare il posto giusto e quindi tante volte magari è arrivata un'arma che non volete e vi ritrovate è la merda come vedete io lo switch non mi ricordo quale sia ah io piccone esempio ho messo il tastino centrale del mouse così che ne so quando devo luttare velocemente non devo stare lì a switchare fino al piccone ma semplicemente tasto clicco il tastino sopra del mouse e lo faccio tranquillo quindi più o meno i comandi sono questi voi potete provare a cambiarli come volete e poi ditemi voi come vi trovate io mi trovo bene con questi il quarto consiglio è quello di guardare video di youtuber pro cercando la cam del mouse tastiera mi sembra dovete cercare tipo fortnite keyboard cam scritto k e y board b o a r d cam in teoria trovate video di gente che gioca come tastiera inquadrando ma vostra stiera così potete capire più o meno come si gioca perché io ad esempio non avevo mai giocato nessun gioco come tastiera quindi era un po' spaesato voi provate guardate video io mi sono migliorato anche guardando tanti video è così che si migliora poi ovviamente applicandosi infatti il quinto consiglio che ho messo è quello di allenarsi ma cosa cosa intendo per allenarsi non mollate i primi tempi vi passerà la voglia di giocare perché non avrete sicuramente voglia di giocare però continuate non mollate non mollate che tornerete a livello vostro di joypad e lo supererete anche basta solo avere la voglia di continuare e di non mollare mai io raga vi lascio qua lasciate un bel like ozzo e nulla raga ci mettiamo al prossimo ti ti oh